Invece voi non potete capire chissà che dici se vuoi fare una due mesi a casa non è vero che l'immagine la fa una due mesi sana sana e non mi voglio fare ma c'è tutto il cazzo uva c'è solo una zona da cominci però c'è la carta comunque sono buona perchè mi stanno pagando aspetta 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 morgottino Firewall distrutto posizione del laptop sui vostri dispositivi nemico fuorigioco tre rimasti no mi ha visto l'urdo ma tutti su io mi stavo via a andare da tutte a 12 e adesso sono due queste per piano la reta tutte le due queste per milion adesso andando a voglia oh 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 giallo uno sta a poco fare due pelli andeeeee uvaa arriva arriva pure chi lato arriva pure chi lato giallo che sta arrivando cavolo daone Dario a dove cazzo sta Dario corri corri Dario corri muoviti uccidi a lei uccidi a lei muoviti uccidi a lei dietro uccidi a lei uccidi porco Dio Giro girati ma fa seria? ehi ma io questo veramente fa seria io pensavo a posto io sono morto uva dai uva dai uva dai uva dai uva dai ma come cazzo si fai ah? ma che cazzo dici a fa Dito guarda Dario tu ci hai passato per quello, niente di meno non l'hai visto e manca maizavi, capite però, sti pochiadigli cioè guarda, comunque sei stato capace di battere il record, sei stata peggio che il tuo molo ma se ne è sciuto voglio no? non c'è la punta, se pigliare scuono è normale che se ne è sciuto